Il principe Ferri e Meghan Markle sono rimasti stupefatti per il tempismo nel rilasciare un annuncio sulle celebrazioni del compleanno di Re Carlo, con un esperto reale che li ha definiti una combinazione tossica. Il momento in cui il principe Ferri e Meghan Markle hanno rilasciato l'annuncio in occasione del compleanno di Re Carlo è stato deplorevole, ha affermato un esperto reale. Hanno anche definito il duca e la duchessa di Sussex, una, combinazione tossica, in quanto sono, imprevedibili, ma anche impopolari. La settimana scorsa il Sunday Times, aveva riferito che il figlio minore del re aveva apparentemente rifiutato l'invito alle celebrazioni del suo compleanno a Clarence House, il 14 novembre. Secondo i rapporti, padre e figlio non parlano molto a causa della delusione di Charles, per il modo in cui Ferri ha descritto la sua vita familiare nel suo libro di memorie Sper. Lunedì sera, il portavoce dei Sussex, ha risposto dicendo che Ferri non aveva ricevuto un invito, e che la coppia non aveva nessun contatto da Buckingham Palace, nonostante le affermazioni di aver rifiutato. Non c'è stato alcun contatto riguardo ad un invito per l'imminente compleanno di sua maestà. È deludente che il Sunday Times abbia riportato erroneamente questa storia, ha detto il portavoce al mail. L'annuncio è arrivato poche ore prima che Carlo tenesse il suo primo discorso del re in Parlamento, e gli Earthshot Prize Awards, del principe William a Singapore. L'esperto reale Ricard Fitzwilliams ha detto a Express.co.uk che la spaccatura nella famiglia reale è estremamente ampia, e non sarebbe stata una buona idea per Charlie invitare suo figlio. La spaccatura nella famiglia reale è estremamente ampia, e chiaramente non sarebbe stata una buona idea invitarli. La spaccatura nella famiglia reale è stata una buona idea. La spaccatura nella famiglia reale è stata una buona idea.